Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi quarto e ultimo appuntamento con il nostro itinerario natalizio alla scoperta delle decorazioni più belle di New York. Partiamo da dove ci siamo fermati ieri, ossia Lower Manhattan, e risaliamo lungo la costa del fiume Hudson per tornare più o meno a Midtown. Se siamo pronti, partiamo! Adesso che ho esaurito tutte le piste da patinaggio che conosco, quindi quell'argomento lo accantoniamo. Andiamo però a scoprire il Chelsea Market. Questo mercato al coperto si trova appunto nel quartiere di Chelsea, che insieme alla diacente Meatpacking District è stato per lunghi decenni il quartiere più industriale di tutta New York. Qui infatti c'erano delle grosse industrie, tantissimi capannoni e il Meatpacking era famoso per essere il luogo della macellazione delle carni. Negli ultimi anni però, dopo un po' di tempo in cui questi quartieri erano decisamente malfamati, c'è stata una grandissima riqualificazione urbana che li hanno resi due dei quartieri più trendy della nuova New York e quindi assolutamente da non perdere. Chelsea Market è stato costituito all'interno dei capannoni che ospitavano la fabbrica Nabisco, che probabilmente detta così non vi dirà granché, ma se vi dicessi biscotti Oreo, quello forse vi suona un pochino di più. Quindi dove una volta fabbricavano gli Oreo, che poi sono diventati famosi in tutto il mondo, ora si trova questo mercato al coperto assolutamente strabiliante, in cui si trovano chiaramente tanti negozi di gastronomia, quindi pesce, carne, pasticcerie, panetterie, veramente di tutto, e un sacco di ristorantini molto molto succulenti dove provare oltre alla cucina tipica americana anche un sacco di cucina etnica e street food proveniente da tutto il mondo. Inoltre ci sono anche dei graziosissimi negozietti, tra cui una bellissima cartoleria dove, vi dico quando ci sono andata, avrei comprato praticamente di tutto. È chiaro che ogni negozio propone i propri allestimenti natalizi, quindi è anche interessante vedere come cambiano i decori da uno all'altro, ma lungo i corridoi principali del Chelsea Market si trova una pioggia di stelle, praticamente delle arcate scintillanti dove passeggiare sotto questi archi meravigliosi e essere veramente catapultati in un cielo stellato. Quindi sia che vogliate comprare un po' di ricordini a tema natale, sia che vogliate comprare le leccornie natalizie magari da portarvi a casa, sia che vogliate mangiare o semplicemente passeggiare al coperto per ripararvi un po' dal freddo, questo è il posto giusto. Una volta usciti dal Chelsea Market ci facciamo una bellissima passeggiata, anche perché sicuramente avremo la pancia piena e quindi bisogna smaltire. Dove vi porto a passeggiare? Sulla High Line che parte proprio qui vicino al Chelsea Market. Che cos'è la High Line? È un parco, ma anche questo è un parco un po' particolare perché è stato riqualificato e allestito sulla vecchia ferrovia industriale che appunto serviva a questi quartieri una volta molto laboriosi, molto industriali. È un percorso urbano sopraelevato, strepitoso, da cui si hanno delle viste privilegiate sui quartieri circostanti, dove sono stati costruiti dei nuovissimi palazzi, delle gallerie d'arte e sono spesso allestite proprio anche delle opere d'arte di artisti magari emergenti proprio lungo tutto il percorso. Quindi assolutamente questo, indipendentemente dal freddo, dalla neve, bisogna farlo e bisogna passeggiare da qui al nuovissimo quartiere di Hudson Yards. Questa zona è stata veramente creata dal nulla negli ultimi anni. Hanno costruito nuovissimi grattacieli tutti a specchio che si specchiano proprio sul fiume Hudson e una nuova strabiliante attrazione di New York che ha aperto nel 2019 che si chiama The Vessel. In pratica è una struttura fatta diciamo a cono che dalla base poi si apre verso l'alto con tutta una serie di piani e di scale che permettono di avere una vista panoramica intorno a 360 gradi. Il quartiere di Hudson Yards è diventato un quartiere alla moda, un quartiere abbastanza chic dove si trovano ristoranti, negozi, centri commerciali, uffici, insomma un quartiere veramente nuovo che come non venivano fatti nuovi quartiere da moltissimi anni. Questa nuova zona urbana ovviamente deve fare un figurone e quindi a Natale diventa sfavillante più che mai. All'interno del centro commerciale viene allestita una gigantesca mongolfiera completamente illuminata che è chiaramente visibile sia dalla strada grazie a quella enorme vetrata che ha davanti e sia anche dal The Vessel. Proprio sul The Vessel vengono poi installate una miriade di luci, più di un milione di luci che lo circondano completamente in tutti i suoi piani. Tutta questa installazione luminosa si chiama Shine Bright at Hudson Yards quindi è assolutamente da non perdere perché è comunque la zona più nuova di New York, la zona che comunque vuole veramente crearsi un bel pubblico e competere con le altre zone invece di New York già più famose e già più natalizie. Visto che parliamo di novità e di esagerazione e visto che siamo ad Hudson Yards bisogna assolutamente salire sul nuovissimo grattacielo The Edge dove si ha la possibilità di accedere ad una piattaforma sospesa completamente nel vuoto che vi farà dare un'occhiata dall'alto a tutta la città di New York. Il bello di questo grattacielo è che essendo un po' spostato dagli altri più famosi permette di avere una vista meravigliosa su tutti gli altri grattacieli più conosciuti quindi Rockefeller Center, Empire State Building quindi se andiamo qui di sera vediamo tutti gli altri grattacieli illuminati e possiamo vedere anche tutte le luci di Natale accese ai nostri piedi nella città quindi The Edge assolutamente non lo dobbiamo perdere e speriamo di poterci andare presto. Voglio parlare adesso di un paio di hotel veramente imperdibili a New York e bisogna per forza trovare il tempo e metterli dentro alla lista delle cose da vedere durante il periodo natalizio. Faccio però prima una piccola premessa tutte le attrazioni che vi ho elencato finora sono praticamente ad accesso libero quindi tranne The Edge non bisogna comprare un biglietto si può entrare liberamente nei parchi nei vari posti che vi ho segnalato quindi risparmiamo un bel po' di soldi e lo stesso vale per gli hotel perché sia all'hotel plaza di cui vi ho già parlato sia negli hotel in cui vi dirò adesso si può entrare nell'atrio e vedere tutte le loro decorazioni natalizie però è anche vero che se dovete scegliere un hotel in cui soggiornare a New York in questo periodo particolare dell'anno secondo me vale la pena scegliere un hotel che ha un'atmosfera al suo interno veramente particolare perché questo renderà ancora più unica l'esperienza natalizia e vi farà sentire e può quindi prendere in considerazione l'hotel Peninsula un bellissimo hotel abbastanza lussuoso però devo dire che ne vale veramente la pena si trova sulla quinta strada in zona Abercrombie per farvi capire e ha un albero di Natale al suo interno che è veramente stratosferico su questa scalinata con le doppie scale e proprio l'albero piazzato lì in mezzo veramente un sogno l'hotel poi di per sé è molto bello e ha tante anche altre decorazioni quindi ghirlande renne luci veramente tanta roba da vedere ma soprattutto in questo caso anche da provare sulla Madison Avenue invece si trova il lotte palace New York hotel mamma mia che nome lungo di solito è conosciuto semplicemente come the palace e sono sicura che sapete benissimo di che posto è perché è molto famoso è apparso infatti nella serie tv gossip girl che sono sicura molte di voi magari femminucce avranno visto perché si tratta del palace hotel dove hanno vissuto sia Chuck sia la famiglia van der Wurzen quindi avete presente di cosa sto parlando e il cortile antistante a questo hotel infatti è molto molto conosciuto e molto riconoscibile proprio qui viene allestito un bellissimo albero di Natale dove fare una miriade di foto dietro l'hotel si trovano i grattacieli mentre davanti si ha una vista privilegiata sulla cattedrale di St. Patrick che è un po' il simbolo cattolico della città di New York sicuramente ci sono tante altre location a New York dove fermarsi a spiare i meravigliosi addobbi di Natale così come spostandosi negli altri quartieri si trova veramente di tutto e di più nomino solo per dirne uno Diker Aids a Brooklyn che è proprio come dire un quartiere solo natalizio perché ci sono luci ovunque ma quella è un'altra storia io ho voluto parlarvi di Manhattan e portarvi per mano con me a fare un bel itinerario su questa isola fantastica che è proprio il cuore pulsante di New York spero vi sia piaciuto spero che le tappe che ho scelto siano interessanti e vi abbiano incuriosito spero di avervi dato un po' del mio spirito natalizio new yorkese tipicamente new yorkese con l'augurio di poterci andare presto tutti insieme magari già l'anno prossimo e godere di questa meravigliosa città questa sarà la vostra faccia quando arriverete a New York per la prima volta o quando ci tornerete dopo un'astinenza da viaggi così lunga ve lo posso assicurare con l'albero di Natale del Rockefeller Center vi mando i miei auguri buon Natale passatelo in serenità con grande spirito di rinascita rivincita con grande energia con grande ottimismo è arrivato Natale anche quest'anno nonostante tutto passerà il Natale arriverà l'anno nuovo ma arriverà anche il momento in cui riprenderemo a fare tutto quello che facevamo prima ma lo faremo meglio di prima mi raccomando non perdete mai il vizio di viaggiare anzi siate sempre curiosi e vogliosi di tornare a viaggiare a scoprire il meraviglioso mondo che ci circonda e godetevela sempre soprattutto in questi giorni di festa un bacione buon Natale a tutti da parte mia continuate a seguirmi fatemi questo regalo di Natale ciao a tutti